Il presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha ricevuto a Palazzo dell'emiciclo nell'ambito degli incontri per la salvaguardia dei tribunali minori in Abruzzo una delegazione dell'ordine dei dottori commercialisti di Avezzano, composta dal presidente Valerio Dell'Olio e dai consiglieri Marisa Gismondi, Antonio Iulianella, Fabrizio Ranieri e Walter Di Giacomo Antonio. I professionisti, nell'ottica di poter dare un contributo per la salvezza del tribunale di Avezzano, hanno preparato una relazione che è stata presentata nel corso della riunione della Commissione regionale Tribunali di Abruzzo, coordinata proprio dal presidente Di Pangrazio. Lo scopo di questo studio è mettere in evidenza l'impatto che la chiusura del tribunale avrebbe su tutto il territorio della Marsica e in particolare sul comune di Avezzano. Molte delle attività economiche sarebbero penalizzate, infatti il documento è stato condiviso con tutte le associazioni di categoria a partire da Confindustria, Confcommercio, CNA, Confartigianato, ordine degli ingegneri, ordine dei consulenti del lavoro che hanno condiviso i risultati finali dello studio in quanto tutte le categorie sarebbero penalizzate e tutte le attività produttive presenti sul territorio. Abbiamo fatto delle proposte concrete per quanto riguarda sia il mantenimento del tribunale di Avezzano ma anche come ipotesi un eventuale accorpamento con il presidio di Isulmona. Naturalmente dall'analisi emergono tutta una serie di dati in cui si evince che il tribunale di Avezzano non può definirsi sicuramente un tribunale minore per tutta una serie di fattori, per il numero di cause ma anche per l'importanza che riveste all'interno del territorio della Marsica.